20 treni straordinari per un'offerta complessiva di 65 mila posti nel primo weekend di luglio rivolti non solo ai pugliesi ma anche ai turisti che si trovano in regione che potranno raggiungere Polignano comodamente in treno senza utilizzare l'auto. In occasione del Red Bull Cliff Diving, la competizione internazionale di tuffi più famosa al mondo in programma sabato 1 e domenica 2 luglio a Polignano a mare, il regionale di Trenitalia Puglia metterà a disposizione treni straordinari d'intesa con la regione per omaggiare il decimo anniversario della competizione il regionale di Trenitalia Puglia ha personalizzato uno dei moderni treni pop con immagini che richiamano la gara e il panorama di Polignano dei tuffatori. Nelle prossime ore il convoglio dedicato al Red Bull Cliff Diving circolerà sulle linee regionali e si potrà ammirare nelle stazioni da cui transiterà.